Beppe Pericu è stata una delle primissime persone che ho incontrato arrivando qua a Genova per ragioni professionali, come credo sia noto almeno ai telespettatori di Primo Canale. Ed era una persona veramente degna di nota ed era anche un amministratore degno di nota. Questo lo dico perché chi mi conosce sa che non indulgo a particolari ipocrisie, cioè se uno quando muore è stata una pessima persona io dico che è stata una pessima persona e se è morto pazienza. Nel caso di Pericu non devo dire esattamente il contrario. E la cosa che mi piace ricordare, che in qualche misura destò scandalo, è che quando in occasione del G8 venne l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e lo definì un ottimo sindaco. E tutti rimasero un po' colpiti da questo fatto perché ovviamente Berlusconi era il leader del centro-destra e come tutti quanti sanno, credo, Pericu invece era un sindaco di centro-sinistra. Ma questo episodio credo che inquadri bene quello che fu il modus operandi di Pericu, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista personale. E fammi dire, Gilberto, che poi il fatto che questa tragica notizia arrivi proprio quest'oggi, in qualche modo è la dimostrazione plastica di quanto credo ci accingiamo a commentare nelle prossime ore. Allora Matteo Cantire non me ne vorrà perché lui è il direttore e quindi chiaramente deve andare un po' con i piedi di piombo. Io ho superato questa fase, quindi mi sbilancio brutalmente, anche perché ho seguito tutti i sondaggi di Primo Canale. Poi gli exit poll, si va verso una vittoria di Bucci, verso una sconfitta sonora del centro-sinistra ed è secondo me significativo che proprio quest'oggi muoia anche Beppe Pericu perché in qualche modo muore un po' il centro-sinistra.